Swag Maria De Fili Matteo Cosa ti prepara da mangiare? Tutti sanno che mangio pasta Pasta tutti 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 Sanno che mangio pasta Con tonno Con tonno Perché ci sei congiato così? Ma chi ti credi di essere? Matteo Renzi Figarenzi E lo so quindi? Pantaloni sotto il culo Sotto il culo? Ma basta Matteo basta Non ti sopporto più Trovati un lavoro Io non faccio braio No Matteo tu non puoi stare qua a casa Sempre a fare il mantenuto Basta devi sporcarti le mani Non mi sporco le mani Perché sono già nello Adesso cambiano le cose ok? Tu qui devi portare la pagnotta I soldi, pagare le bollette Non posso fare tutto io Da adesso tu pagherai l'affitto Io non pago affitto Non pago affitto Io non pago affitto Non pago affitto No adesso basta Tu sei grande ai 24 anni Basta Te ne vai fuori da questa casa Sono bello come Raulo Fuori Boba 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 Bobaazio Boba Boba Grazie a tutti.